Tragico impatto nel primo pomeriggio tra un'auto cisterna ed una utilitaria sulla strada provinciale 85 che collega Bicelli a Corato. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni. L'auto, di piccola cilindrata, è stata avvolta dalle fiamme dopo la violenta collisione col mezzo pesante che trasportava vino. Alla guida dell'auto cisterna, un 59enne bicelliese è rimasto illeso seppure sotto shock. Per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare, morto carbonizzato. Ancora ad accertare la dinamica dell'incidente. L'impatto tra il mezzo pesante e l'autovettura sarebbe stato frontale. Camione e macchina hanno finito la loro corsa contro il muretto di una villa e hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Barletta e Molfetta, carabinieri e polizia al locale di Bicelli per effettuare i rilievi e accertare dinamica e responsabilità. L'intero tratto della provinciale è stato chiuso al traffico.